Buonasera Bisceglie! Buonasera! E finalmente siamo qui! Dovevamo essere qui circa un mese fa. E a maggior ragione siamo orgogliosi di essere qui questa sera per quella che doveva essere la tappa di apertura del tour di Battiti Live 2016 che si è trasformata e diventata nella tappa di chiusura di questo magnifico tour. E' una questione di identità proprio di Battiti Live, l'identità all'anima e il cuore di Battiti Live che arriva all'anima e al cuore del territorio. Abbiamo pensato ad una serata speciale, pensando ad una serata speciale in azienda come Gruppo Norba non abbiamo potuto fare a meno di pensare a Bisceglie, di essere qui a Bisceglie, di organizzare una serata speciale proprio qui a Bisceglie. E a proposito di cuore andiamo a vedere quelli che saranno gli artisti di questa sera, artisti dal cuore pugliese! Stasera sarà con noi Alessandra Amoroso, il nostro Renzo Rubino, Elodie, Il Sud Sound System, Albano, Giossana, Antonino, Sergio Silvestre, Emma Menta e Emma Marrone! Tra pochissimo, proprio tra pochissimo saremo in onda su Radio Norba in radio, su Radio Norba TV in TV, su Telenorba e a 730 di Sky, tra pochissimo nel cuore della musica e nel cuore della Puglia. Vi aspettiamo!